Ma è un piccolo giaguaro. Da oggi ti chiami Hop. Io ti proteggerò sempre. Hop! Che cos'è? Questa? Niente. Caro dottore, la situazione è peggiore di giorno in giorno. È rimasto un solo giaguaro e ormai ha le ore contate. Dobbiamo salvare Hop! Siamo andati via dalla giungla otto anni fa e non ci torniamo! Nonostante tutta sei venuta. La sua migliore amica è un giaguaro? La porto in un corridoio faunistico. Sarai in salvo. È un animale selvatico ormai. Bracconieri! Cerca la Hop! Ti proteggerò. Ti porterò in salvo. Staremo sempre insieme, io e te. Riccardo. Riccardo. Grazie. Grazie a tutti